Come ti chiami? Lorenzo. Quanti anni hai? Sette. Senti, qua al collo vedo una medaglia. Che medaglia è? L'oro. Quando l'hai vinto? Domenica. Senti, quanti incontri hai fatto per portare a casa questa bella medaglia? Ti è la sei, ma è pesantissima. Cinque. Lorenzo è uno dei piccoli atleti del centro taekwondo Arezzo arrivati sul tetto d'Italia. Due ori e un bronzo, il medagliere con cui la società retina ha capitalizzato tutto un anno di allenamenti ed è riuscita a imporsi a Roma al trofeo internazionale Kim Liu, la più importante gara giovanile italiana che chiude la stagione decretando le classifiche dei migliori atleti del panorama tricolore. La squadra retina, guidata dal maestro Andrea Rescigno, si è presentata all'appuntamento con nove atleti che si sono messi in evidenza per la spettacolarità e la difficoltà delle tecniche eseguite, vincendo numerosi incontri anche contro avversari più esperti. Ci sono state delle grandissime soddisfazioni quest'anno, è stato veramente entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo concluso nei migliori dei modi con tre medagli a Kim Liu che è il trofeo nazionale, anzi da due anni, il trofeo internazionale svoltosi a Roma all'Acqua Cetosa, al centro olimpico, che sarebbe la sede della nostra federazione. Oltre 1200 partecipanti siamo scesi con i nostri nove migliori atleti, abbiamo portato tre medagli di cui due d'oro per Lorenzo e Asia e una medaglia di bronzo con Giulia. E quindi diciamo che siamo al settimo cielo, è finita la stagione, comunque sta per concludersi e queste tre medaglie danno merito sia ai ragazzi e al lavoro da me svolto in palestra confermando la strada giusta che abbiamo intrapreso in palestra. Tu invece ti chiami? Asia. Anni? Undici. Questa medaglia quando è arrivata e che medaglia è? Sabato ho vinto l'oro e a Roma. E tu quanti incontri hai dovuto fare invece per arrivare a questo risultato? Tre incontri, tra cui uno non l'ho fatto perché l'avversario non si è presentato. Ti chiami? Giulia. Anni? Dieci e mezzo. Era la tua prima competizione? Sì. Come sei arrivata? Secondo me bene. Una medaglia che tu porti al collo è una medaglia di bronzo, quindi terzo posto. Per essere la prima volta che combattevi mi pare che ci si può stare. Sì. Per te che emozione è stata partecipare a questa gara e poi anche vincere la medaglia? Bella per la prima gara. Che cosa vi insegna questo sport nei confronti dell'avversario? Devi essere rispettoso e... Rispettare le regole. Sì. Insomma, non è uno sport violento, ricordiamolo. Giusto, anche perché sennò delle belle bimbe come voi non lo farebbero. Se ci fosse un bimbo dalla parte di là, una bimba, che vuole fare questo sport, no? Tu che cosa gli diresti? Eh sì, può farlo. Perché? Perché può diventare campione. Che cosa gli diresti?